Si è allegra? Ecco, allora facciamo un esperimento, perché a noi piace familiarizzare col pubblico. Mettiamo le mani così. Non sono casella, signora. Occio, come io faccio così, voi date un colpo secco tipo schiacciare mosche, ok? Occio, eh? Lei ha un viso cinematografico, eh? Glielo facciamo un applauso a questo signore. Occio, eh? Attenzione! Andiamo a tempo se non piove, eh? Questa cosa la facevo con del più basso. Mani su! Lasciamo solo le lube. Parti con la base della madarena, vai! Mani su! Come parte da gran cassa, tutti insieme con le manine, eh? Occio! Oh! Oh! Bravo, dunque voi. Lube su mundo a meno Varios unsos colores Y stranos ammentos Diversos lamentos Al deschile levante Tramontua ponente A mezzudì è vivente E sa viata Lugue in terra Lugue in mare Lugue in credo Lugue in vida Lugue in noi